Ragazzi questo video è importantissimo, vi chiedo la gentilezza di guardarlo dall'inizio alla fine e soprattutto di commentarmi che cose ne pensate Come avrete già letto dal titolo non ho più intenzione di fare dei mini giochi con 100 persone, ovvero con persone che non sono miei abbonati Come sapete ragazzi ormai siamo a più di 1500 abbonati e come sapete in Italia sono l'unico youtuber che continua a fare i video insieme ai propri iscritti, insieme ai propri abbonati Ovviamente a volte decido di non farli solamente con gli abbonati ma farli con tutti quanti e ci tengo a precisare che nessuno mi obbliga a fare ciò Potrei fare benissimo come fanno tutti gli altri, ringraziarvi, intascarmi i soldi e dirvi grazie e rivederci Ma invece no, voglio per forza rendervi partecipi e protagonisti dei mini giochi e dei video Purtroppo ecco a voi il risultato di cosa succede quando si permette a tutti quanti di fare un mini gioco Perciò prossima volta che magari mi chiederete Tecma perché fai i mini giochi solamente con i sub vi chiedo la gentilezza di guardare questo video per capire come è andata Dato ciò ragazzi buona visione anche se di buono c'è poco Ragazzi vi ricordo di usare il codice creatore TECHNOID96 PRONISHOP che farete nel negozio oggetti E se volete essere salutati in video taggatemi su Instagram E un bacio superini e benvenuti in questo video come sempre su Tecnoid E siamo tornati ragazzi in un nuovissimo video che ci farà venire un'ansia assurda Perché come vedete sono in compagnia di Dragon, bella Dragon saluta Aspetta mi scappa una scoreggia Oh oh ciao Tec tutto bene tutto a posto i fratelli Questo scema guarda che fai il cittadino Tutto a posti Come state vedendo ragazzi oggi quello che andremo a fare è sopravvissuti contro zombie In pratica rifaremo come The Last of Us 2 ovvero saremo nella fine del mondo E come vedete abbiamo un server privato dove si stanno collegando tutte le persone Mi raccomando ragazzi se vi volete collegare anche voi e fare i mini giochi Qui sotto in descrizione troverete il link del Discord E troverete anche il link per Dragon Come vedete abbiamo 98 persone collegate Fratello Saranno 100 parto dimmi Ma sono io la fine del mondo Perché? Perché sono bellissimo Poco egocentrico Le regole ragazzi sono molto semplici Tutti quanti dovranno avere il no skin E noi due saremo quelli che dovranno scappare per tutta la partita Invece tutti gli altri ci dovranno stream sniperare ragazzi Potranno stream sniperarci però dovranno usare solamente il piccone Quello che dovremmo fare noi è cercare di vincere Mi raccomando prima che parta il video scrivete qui sotto ragazzi in chat Secondo voi se noi riusciremo a sopravvivere oppure no Nessuno di voi deve venire nella nostra città finché non parte la prima save Qua in casi sono due O loro faranno i noob e verranno uno alla volta oppure fanno un'orda zio che ci distruggono Si sono intelligenti si organizzano si radunano e fanno l'orda alla fine della prima save Basta uno star muto a testa che t'ammazzano Ma sta mezza piccola per uno anche un quarto di piccolata Oh c'è uno qua sopra Non ci può fare niente no? Esatto non ci può fare niente Vattene via Vattene via Non puoi stare qua Guardali guardali qua che stanno arrivando Oh siete troppi qua Non va mica bene qui eh Oh tocca spostacce ma eh Ah no ancora c'è un botto di tempo pensavo Tante munizioni che mi stanno dando zii Mi sto per funnare Oh ragazzi un po' di mazzo un po' di mazzo ce l'avete per papà dragon? Mamma mia quanta roba Avrà nel lì sali Sali fratelli sali Ragazzi non potete salire voi eh Ci stanno a seguire la nave oh Oh non vale oh scendete dai veicoli scendi dal veicolo I zombie non possono guidare i veicoli ragazzi Un minuto e 27 parte l'apocalisse Vado là vado subito bravo 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 Che io non ho loot sicuro E invece Ma quanto loot c'è qui? Un botto fra 42 secondi e potrete partire Fra ma tu sei pronto per sta situazione? No zio Fra 20 secondi fra 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 Sì oh ma non potete Però regà ma non potete buildare Ma ve l'abbiamo detto 20 volte Non potete né buildare e né usare shieldini Oh vieni qua vieni qua tech Facciamo Ma è partito è partito Non ti devi fermare frate Stiamo insieme stiamo insieme Stiamo insieme Non ti chiudere dentro all'edificio Stai attento Possono solo picconare loro eh Ok ok arrivo arrivo Vieni qua vieni qua Stiamo in giro Stiamo in giro Vai 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 let's go Zì ma ti rendi conto che siamo a una safe piccolissima No no sono troppi fra Sono troppi Sono troppi fra Sono troppi Sono troppi Sono troppi fra non ce la facciamo Toccando anche un po' aperto fra Toccando anche un po' aperto Vai 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 Ragà lasciate quel veicolo per cortesia Che è terra uno Oh no ma se posso non restare così Eliminalo eliminalo Eliminato un altro Da dietro da dietro Tecna dietro Eliminato un altro Oh Vai Attento dragon Oh cavolo Corri 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 Oh c'è uno che mi ha sparato però eh Oh ma porca zio c'è uno qui eh E dove è dove è Ah me l'ha ammazzato ammazzato Con le armi ammazzato vai Testa di Oh hanno rissato Hanno rissato Si sono rissato Aiuto Attento Ora se sono intelligenti si radunano tutti Di erotec Guardalo Guardalo Non l'ho visto Salvato 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 Tranquillo tranquillo Attento ai cespugli Attento ai cespugli eh Recupera tutto Mi riesci a coprire? Ok Non mi serve copertura vai Ok Ok fra Attento Oh Sta pushendo Un altro che spara però Regà ma non potete sparare Ammazzato ammazzato Aspetta che lo vado a prendo Ok l'hanno finito l'hanno finito vai Grazie mille ragazzi Oh frate no frate sono troppi Fra sono troppi Fra non ce la facciamo Stai tranquillo Stai tranquillo Stai tranquillo Non ti far prendere dal panico Fra Non ti far prendere dal panico Sto laccando io Ti sto salvando Ma pinta Dragon pinta Aia Pinta 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 Dragon pinta Pinta scappa Oddio quanti Oddio quanti Oddio qua No rica No fra Ragazzi non potete buildare Non potete buildare Non potete buildare Poi ragazzi Non potete assolutamente buildare E ne usare cose No Fra Ah, sta frame laggando. Non puoi buildare, bro. Dio, quanti? Devo far fargli sti imbecilli con le armi. Aspetta, aspetta. Fermi, fermi, fermi. Fermi tutti, fermi tutti. Ognuno di voi. Fermi, fermi. Fermi immobili, fermi immobili. Time out. Time out, ragazzi. Time out. Ecco, ammazzato. Fermi un attimo, ragazzi. Fermi, 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 fermi. Fermi. Dobbiamo capire che c'è un altro imbecilli con le armi. Non ho capito chi è. Allora, vedi che non si può fare sto video. Adesso fermi. Fermi, fermo, fermo. Fermo, adesso te rianimo. Aspetta. Ma quanto danno fastidio quelli che non rispetta le regole. Rianimami, Dragon. Mi servono armi a me. Ok. Fategli e prende le armi a te che ricominciamo, ragazzi. Non buildate, ragazzi. Non buildate, non buildate. Pronti, partenza, via. Vi ricordo che non potete vintare. Vai, ragazzi, riprende, riprende, ragazzi. Vai. Dragon, coprimi dietro, Dragon. Oh, c'è uno sulla barca. Un Antonio non può andare sulla barca. Ma questi zombie hanno la patente? Oh, zi. Oh, mamma mia. Non ci capisco niente. Mi hanno scorreggiato addosso. Nuota, 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 nuota. Non potete buildare, raga. Oh, a caso, kill arrivano. Oddio, c'è la tempesta. Fra, troppa gente. Fra, fra. Fra, sono tutti qua. Troppo piccola. Siamo in 56. Non riesco a prendere nessuno. Dai, corri. Oh, Dragon, 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 stiammi insieme, stiammi insieme. Vieni, vieni, Fra, vieni. Un altro fatto. Vai, vai, Fra. Oddio, Dragon. Oh, oh. Mi son salvato. Dietro, dietro. Fatto, fatto. Eh, ma c'è uno che mi ha sparato, però. Mi sparano. Eh, lo, lo, lì. Mi è piccolato, raga. Lo vedete? Tonto, morto, morto. Fermi, fermi, fermi. Rianima, rianima. Fermi, fermi. Fermi. L'ho ucciso, l'ho ucciso. Grazie mille per tutti quelli che sono reali, ragazzi. Che stanno... Esatto. Bravi, ragazzi. Vai, let's go. Vai, vai, vai. Riprendiamo, riprendiamo. Vuia, vuia. Oh, ce n'è uno dentro il cespugno. Ma di sicuro? Ce ne traveggo Te lo giuro che prima ce n'era uno Oh ma sti zombie hanno preso la patente Guardali come guidano Stai attento dietro Vai vai Fra c'è la jump Prendila mettila E' già messa Pigliala allora Non venire qua Io ce n'avevo una Un altro dietro Fra vai su lì sulla che ti ho pingato Corri Sto andando Oh chi è Oh attento che sono tutti sulla funivia Oh fra mi sono piccolato Scappa Stai con me Aspetta che ti vengo ad aiutare Ok Dragon c'è pochissima vita Ce l'hai le splash Ma che splash Non c'è niente fra C'ho i scudini No fra sono troppi Sono troppi Sono troppi Oh yeah Non l'ho visto Hanno fatto il giro Sono spacciato Dragon scappa Costruisci in alto Eh però guarda che te la spaccano Cavolo Sottra Lo so Scappa fino alla fine Oh fatti tipo una mega struttura Bravo Bravo C'è una bocca Ciao Attento Ammazza quello No zio Sono troppi Sono troppi Sono troppi Perché si stanno unendo tutti quanti Capito C'è Eh ma stanno giocando Bene adesso Capito Stanno giocando in squadra Bravo Adesso stanno giocando in squadra Dietro 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 Attento anche i bot Che pure quelli sparano Fai così Bravo 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 Ficcati così sulle strutture in alto Usa i materiali che non possono rompere Vai Ora però è meglio che cominci a sparare Figliane uno appena hai tempo Bravo Sì ma capisci che se lo fermo un secondo Io Senti Vabbè urla Sto urlando come una checca No Oh ce la puoi fare Salta gira e spara Salta gira e spara Ti danno due piccolate e sei morto eh No No ma dai No zio Dai No Ma vedi che t'ha sparato Sì 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 No dai raga Però veramente ragazzi È una cosa insopportabile Faccio io non ti trovo su discord Fra subito Guarda